ragazzi allora qui sono in un negozio in corso vittorio emanuele sempre centro storico a palermo ed è un negozio che ha tutta roba vintage ma bellissima il negozio si chiama vintage 21 e qui trovate abiti accessori scarpe cappelli borse bigiotteria davvero davvero di tutto guardate che belle vetrine guardate quanti occhiali guardate la bigiotteria e soprattutto questo è un negozio che si distingue per il cuoio ci sono degli accessori in cuoio fantastici davvero provare per credere guardate qui che borse che ci sono proprio qui il cuoio la fa da padrona guardate che meraviglia guardate queste scarpe in pandan con la borsa questa è una cesta piena di foulard guardate questi abiti guardate che meraviglia di abiti con i merletti proprio antichi bellissimi guardate questo cappello tutto veramente meraviglioso guardate questo cappello è un'altra città di 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 un'altra c